In linea con la giornata nazionale della pubblica amministrazione si è svolta la prima edizione della giornata regionale dei pubblici servizi in Abruzzo. All'auditorium del parco organizzata dalla Conf Servizi CISPEL Abruzzo, gli amministratori delle società pubbliche hanno avuto la possibilità di confrontarsi. Ambiente, rifiuti, utilizzo delle risorse idriche, con particolare riferimento alla protezione dell'ambiente e all'incremento dell'efficienza dei servizi pubblici nelle comunità locali, sono stati alcuni dei temi trattati nel corso della giornata, che si è articolata in due momenti contemporanei. Una tavola rotonda a cui hanno preso parte i dirigenti nazionali della CISPEL, della Regione Abruzzo e dei comuni abruzzesi, ed un momento all'esterno dell'auditorium del parco, in cui in una grande vetrina, gli amministratori delle società pubbliche hanno potuto presentare le attività, i servizi e i progetti. Normalmente si parla male delle aziende pubbliche, ma non è il caso delle aziende associate a CISPEL. Sono aziende che hanno un impatto importante sulle comuni regionali, si occupano di questioni strategiche, rifiuti, acqua, hanno un fatturato complessivo di circa 400 milioni di euro, 1.600, oltre 1.600 dipendenti, quindi stiamo parlando di aziende che sono importanti per l'economia regionale. Sono aziende che complessivamente sono solide, hanno ripreso a produrre utili, anche se quello non è il loro scopo, perché il loro scopo è essere efficienti, essere solide. Da un punto di vista patrimoniale hanno una solidità crescente, il loro patrimonio continua a crescere.